Una Pasqua blindata da divieti e restrizioni. Le celebrazioni della maggiore festività cattolica saranno limitate anche quest'anno dalle normative anti-covid, in un'Italia tutta rossa fino al 5 di aprile. A partire da martedì alcune regioni torneranno in zona arancione. La zona gialla invece, per decisione del governo Draghi, è sospesa per tutto il mese di aprile, anche laddove, come in Abruzzo, l'indice di contagiosità RT è sotto l'uno. Per il pranzo di Pasqua il governo raccomanda di non accogliere a casa parenti e amici che non siano conviventi e bisognerà tentare di rispettare tutte le normative di sicurezza anche a tavola, vietate invece le tradizionali scampagnate di Pasquetta. Via libera alle liturgie religiose. Durante la messa però il consueto segno di pace fa sapere la conferenza episcopale non può essere scambiato con la stretta di mano ma con un inchino guardandosi negli occhi. È comunque consigliabile, soprattutto per i soggetti fragili, seguire le funzioni in streaming. Nel weekend gli spostamenti verso abitazioni private sono consentiti una sola volta al giorno, nel limite massimo di due persone, esclusi minori di 14 anni e disabili, purché non si oltrepassino i confini regionali. Sono invece consentiti viaggio all'estero, con tampone alla partenza e al rientro, isolandosi per cinque giorni dal ritorno in Italia. Dalla prossima settimana inoltre in Abruzzo riapriranno le scuole. Il messaggio che io voglio mandare è innanzitutto di un augurio, di un augurio di speranza ai nostri corregionali e seguire più attentamente quelle regole perché come sono stati bravi, attenti nei mesi precedenti, adesso non dobbiamo vanificare il sacrificio messo in atto. E la Pasqua sembra aver portato con sé la primavera. Il bel tempo e le temperature confortevoli di questi giorni amplificano il senso di sacrificio di chi si rinchiude in casa e in molti nel weekend si sono riversati sulle spiagge e nei parchi ad approfittare del primo sole. Anche per questo occorre velocizzare il più possibile la campagna di vaccinazione che si è organizzata con criterio. La data entro la quale tutti in Bruzzo dovrebbero essere vaccinati è slittata al termine dell'estate. Riguardo alle somministrazioni siamo nella media nazionale, ha dichiarato la Veri. Senz'altro siamo nella media nazionale, è anche vero che ci sono persone che non stanno rispondendo per quanto riguarda la somministrazione di AstraZeneca, però c'è una grande adesione. Il nostro bisogno è quello di avere vaccini, vaccini soprattutto per i fragili. Abbiamo concluso quel protocollo che avevamo presentato come piano vaccino, alcune ARS l'hanno concluso anche in tempi veloci, qualche altro ARS lo sta concludendo in questo momento, però faccio l'esempio del personale scolastico, docente e non, che sono stati già tutti vaccinati, quindi si sta proseguendo secondo le fasce, le categorie descritte. Grazie. Grazie.